Partiamo con la riete. Divertimenti e vita mondana oggi rimangono sullo sfondo. Il clima sonnacchioso invita all'ascolto interiore ad una pausa di riflessione. Per quanto riguarda le iniziative professionali, aspettate ancora il tempo giusto. Toro, non rinunciate alla vita sociale e se vi capita qualche spostamento fuori programma. Un'atmosfera affettuosa promette e serenità in amore e una brezza di romanticismo soffia sull'intesa. Gemelli, superiori estremamente esigenti ma le imposizioni non vi vanno giù. Tanta la voglia di controbattere ma per il vostro bene meglio tacere questa volta. Sognate di mandare tutto all'aria ma non è ancora il momento. Cancro, messaggi positivi dalle stelle che vi danno delle belle pennellate di rosa al quadro della vostra vita. Eventi particolari che non vi aspettavate come per esempio l'incontro con una persona che non sembra poi così fortuito. Leone, una buona organizzazione vi terrà riparo da possibili imprevisti sul lavoro. Momento però di introversione per quanto riguarda la vita di coppia. Cercate di esternare di più i vostri sentimenti e condivideteli con il vostro partner. Vergine, sul lavoro oggi divergenze di vedute vi renderanno insofferenti. Le stelle vi consigliano un atteggiamento più duttile e nella vita di coppia sarebbe il caso di non lasciarvi prendere troppo la mano dalle incertezze. Bilancia, oggi siete disturbati da una certa agitazione che regna nell'ambiente domestico e anche su quello lavorativo. Non amate le polemiche specie per questioni che ritenete secondarie. Scorpione, dovrete recuperare un po' più di sicurezza in voi stessi. Potrete togliervi anche qualche sassolino dalla scarpa ma attenti a non farvi dei nemici. Per quanto riguarda i single l'avventura può essere pericolosa ma la tranquillità per voi è letale. Sagittario, difficile ma non impossibile oggi mantenere la rotta per quanto riguarda soprattutto i vostri obiettivi sul lavoro. Basterà prendere le cose con più calma e non scoraggiarsi soprattutto davanti a possibili imprevisti che potranno arrivare. Capricorno, buono il rapporto di coppia, vivacizzato dalla giusta dose di passione, sentimento e a volte anche di gelosia. Acquario, prospettive ottime per quanto riguarda il lavoro ma i risultati concreti sono ancora un po' lontani. Chiedetevi intanto che cosa manca, datevi una risposta e soprattutto dopo datevi da fare. Pesci, giornata per voi piuttosto interessante con la logica e la fantasia che si fondono in un'amalgama di successo che vi consentirà di esaudire i desideri più arditi. Molto bene la vita di coppia, per i single si presenterà una serata piuttosto particolare.